Gianluca Taddeo, lo scrutinio è appena terminato, l'elezione a sindaco per uno scarto di 38 voti, insomma, qual è la prima considerazione da fare? La prima considerazione da fare è che c'è un dato che ha eletto un sindaco in questa città, seppur sul filo del rasoio, quindi bisogna iniziare a lavorare e recuperare quello che oggi questa città non presenta. Bisogna impegnarsi per fare quello che abbiamo detto, abbiamo raccontato, quindi da domani si parte e si lavora. Sembra che lei abbia le idee davvero chiare e quindi immaginiamo che possa avere già dei punti da cui partire. Guarda, io oggi mi prendo una serata di riposo, da domani inizio con il neo e lei e tutto quello che gira intorno all'amministrazione perché non abbiamo discusso ancora di nulla. Quindi partiremo da quello, formeremo la giunta, i delegati e inizieremo a lavorare. Grazie.